Musica Tasso dell'inquinamento elevato, domenica 7 gennaio, Benevento stop alla circolazione delle auto, disposizione con ordinanza. Edilizia scolastica, il rischio sismico, chiude un'altra scuola d'Avellino, la regina Margherita di Piazza Garibaldi. Vigili del fuoco d'Avellino, iperattivi, doppio intervento del distaccamento di Grotta Minarda, Flumeri e Areon Irpino. Ottava edizione della manifestazione giornata del laureato e del talento guardiese nel mondo, premiato il professore Giuseppe Colangelo. Il Golfo di Napoli e il mare preferito dalle tartarughe, caretta caretta. Nuovo appuntamento con l'informazione di Media TV, ben ritrovati, lo abbiamo appena sentito nella calza, un provvedimento per le auto e i mezzi inquinanti. Domenica 7 gennaio a Benevento, nuovo stop, sforati i livelli di PM 2,5, il servizio. Ancora all'erta smog, sforato il valore PM 2,5, alte concentrazioni di polveri sottili nell'aria nei giorni 30 e 31 dicembre, troppo alte e così per arginare l'inquinamento a Benevento torna il blocco totale della circolazione. Quando i cittadini del capologo Sennita non potranno muoversi in auto? Domenica 7 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, in particolare in zone del centro, Rotonda delle Scienze, incrocio con via Schipa e via Mustilli, Rotonda Ponticelli, via Schipa, via Mustilli, via Calandra, via De Caro, via Santa Rosa, via Nicola Sala, parcheggio antistante lo stadio, lato tribuna e lato distinti in località Santa Colomba. Il divieto riguarda gli autoveicoli compresi tra le categorie Euro 0 e Euro 3, ovvero quelli che contribuiscono maggiormente alle emissioni inquinanti, via libera per tutte le altre auto, comprese quelle alimentate a GPL o metano. Per le moto la circolazione sarà vietata, per tutti quei mezzi che non siano a quattro tempi oppure per gli Euro 2 e i successivi. Altre deroghe sono previste per una pluralità di categorie, i mezzi pubblici, di soccorso, d'emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche, le biciclette a pedalata assistita e le auto Euro 6. Edilizia scolastica e rischio sismico chiude un'altra scuola d'Avellino, la regina Margherita di Piazza Garibaldi. Sentiamo perché. In Italia sono ancora troppo pochi gli edifici scolastici costruiti rispettando le norme antisismiche in zone ad elevato rischio terremoti. Il dato aumenta esponenzialmente se guardiamo alle zone con rischio sismico medio-alto. Il nostro paese ormai lo sappiamo è attraversato da nord a sud, da lenti ma continui movimenti che provocano scosse di terremoto più o meno forti. I tragici e recenti terremoti dell'Aquila 2009, dell'Emilia 2012 e del centro Italia 2016 ce lo hanno dimostrato bene. Indimenticabile anche il sisma dell'80 che ha zerato l'Irpinia. Fenomeni che hanno portato all'ordine del giorno il tema della prevenzione contro gli eventi sismici. Perché se prevedere il verificarsi di un sisma è estremamente difficile, cercare di limitarne i danni è oggi un imperativo. Ad Avellino, dopo il caso del liceo scientifico Mancini di Via dei Concilis, un'altra scuola della città chiuderà i cancelli, anche se per soli due giorni, proprio a causa del rischio sismico. Ci riferiamo alla scuola Regina Margherita di Piazza Garibaldi, che su ordinanza del sindaco Paolo Foti rimarrà chiusa nei giorni 8 e 9 gennaio, per consentire la continuazione degli interventi di riduzione del potenziale rischio connesso al fenomeno dello sfondellamento dei solai previsto per vari edifici scolastici di competenza comunale. I lavori fanno parte di quegli interventi mirati e programmati in primavera. In tutto saranno 7 le scuole che saranno e sono state già interessate dalle verifiche sui solai nelle vacanze natalizie. Un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno è stata eseguita all'alba nell'agro nocerino sarnese. 70 militari con l'aiuto di unità cinofile hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 11 indagati, tutti ritenuti responsabili di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti, principalmente del tipo cocaina ed hashish. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati a Nocera Inferiore in procura in una conferenza stampa. Gli assuntori di droga, in particolare hashish e cocaina, sono in continuo aumento in tutto l'agro nocerino sarnese. L'operazione dei carabinieri effettuata a Sarno non fa altro che confermare che c'è un vero e proprio allarme sociale e di conseguenza anche medico-sanitario. I numerosi arresti, gli ingenti sequestri di quantitative di sostanze stupefacenti pongono l'accento su quello che il procuratore Centro ha definito come un'attività frenetica e redditizia. Lo spaccio di droga è così intenso che non ci sono più limiti anche per piccoli gruppi criminali che si riforniscono negli stessi punti e poi si dividono le piazze con zone ben precise senza farsi concorrenza. Spesso c'è tanto bisogno di droga che la si taglia all'ultimo momento con possibili ripercussioni sulla qualità dello stupefacente e quindi anche potenzialmente materiale pericoloso per gli assuntori di turno. A coordinare le indagini effettuate dai carabinieri a Sarno, il sostituto procuratore Roberto Lenza. Cioè che vi è una richiesta, vi è una domanda di sostanze stupefacenti da parte di tossicodipendenti che aumenta sempre di più. Anche nella formulazione dei capi di imputazione c'è stata una elencazione veramente significativa di soggetti anche individuati con dei pseudonimi che dà la cifra veramente allarmante del fenomeno che abbiamo scoperto in un territorio, quello sarnese comunque limitato sotto il profilo territoriale. Se consideriamo questo dato in corrispondenza a quello di altre operazioni che in tempi recentissimi sono state coordinate dalla Procura di Nocere inferiore, evidentemente allora possiamo farci un quadro sia della gravità della situazione sotto il profilo del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti sia sotto il profilo dei problemi anche di salute in cui incorrono tanti tossicodipendenti. Tre persone sono state arrestate a Sala Consilina la notte scorsa per riciclaggio di automobili rubate. I tre uomini, un 54enne ed un 27enne del posto ed un 25enne di origini romene, sono stati sorpresi all'interno di un capannone di una ditta di autodemolizioni mentre erano intenti a smontare e a distruggere il telaio e le targhe di un'auto di recente immatricolazione. Un ordigno artigianale è esploso davanti all'ingresso di una rivendita di bibide di una persona incensurata in via Gianturco a Napoli. L'esplosione ha causato l'apertura della parte inferiore della serranda, la rottura dei vetri di auto o vetture parcheggiate nelle vicinanze e quelli del gabbiotto di un vicino distributore di carburanti. I carabinieri della compagnia di Poggio Reale hanno avviato le indagini. Sembra potersi escludere la pista dell'estorsione. Un 21enne è stato ferito con un colpo di pistola la notte scorsa a Napoli. È stato ricoverato nel vecchio Pellegrini dove la polizia ha raccolto le sue dichiarazioni. Il giovane che ha precedenti di polizia ha riferito che mentre si trovava con un amico in Vico Lungo, San Matteo, è giunta una motocicletta a bordo della quale vi erano due persone, una delle quali ha sparato un colpo di pistola che lo ha ferito al torace. Guarirà in 20 giorni. Gli agenti hanno avviato le indagini. Luca Materaccio, trasferito in carcere a Madrid 20 giorni per la possibile estradizione. Al 37enne accusato, lo ricordiamo, dell'omicidio del fratello. L'ingegnere Vittorio Materaccio, avvenuto in Viale Maria Cristina di Savoia a Napoli il 29 novembre 2016, è stato notificato il mandato di arresto europeo. Sentiamo. È stato trasferito da Siviglia al carcere di Madrid Luca Materaccio, il 37enne arrestato dalla polizia spagnola e accusato di aver ucciso a coltellate il 29 novembre 2016 suo fratello, l'ingegnere Vittorio Materaccio. L'uomo si era reso irreperibile poco prima che venisse emesso un provvedimento restrittivo in seguito al rinvenimento delle tracce di DNA sugli indumenti che l'assassino aveva abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto, avvenuto in Viale Maria Cristina Savoia a Napoli. Luca Materaccio, assistito da un avvocato spagnolo, è comparso davanti al giudice per l'udienza in cui gli è stato notificato il mandato di arresto europeo. La magistratura spagnola ha 90 giorni di tempo per pronunciarsi sulla ratifica dell'arresto e l'estradizione in Italia. Nei prossimi giorni i legali di Materaccio, gli avvocati Gaetano e Maria Luigia in Serra, si recheranno in Spagna per un colloquio con il loro assistito per preparare la linea difensiva in vista dell'udienza preliminare fissata per il 7 febbraio prossimo davanti al gruppo del Tribunale di Napoli, Alfonso Sabella. Il cadavere di un uomo, probabilmente un giovane indiano di 35 anni, è stato trovato da un passante in penisola sorrentina lungo una piccola traversa della strada del Nastro Azzurro tra Piano di Sorrento e Sant'Agnello. Il giovane indiano era conosciuto nella zona, viveva senza fissa dimora e senza nessun lavoro stabile. Nessun apparente segno di violenza è stato rilevato, probabilmente la causa del decesso, un malore. I carabinieri lo hanno trovato senza documenti. Vigili del fuoco di Avellino e Perattivi, doppio intervento del distaccamento di Grotta Minarda a Flumeri e a Dariano Irpino. Sentiamo. Giornata di interventi per i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, in particolare la squadra dei pompieri del distaccamento di Grotta Minarda durante la notte appena trascorsa intervenuta a Flumeri per un incendio di un trattore stradale di una ditta del posto. L'automeggio avvolto dalle fiamme è stato spento e messo in sicurezza, evitando che le fiamme si propagassero ad altri veicoli limitrofi. Un intervento che ha scongiurato il pericolo e ulteriori danni, conseguenze evitate grazie alla prontezza e alla tempestività dei caschi rossi. Ore d'intenso lavoro per quest'ultimi, nelle stesse ore, la stessa squadra del distaccamento di Grotta Minarda si è portata in via Russo ad Ariano Irpino per il recupero di un'autovettura finita in una scarpata. Sul posto anche i colleghi di Ariano, i quali con l'ausilio dell'autogru proveniente dalla sede centrale di Avellino, hanno recuperato il veicolo con non poche difficoltà, vista la zona impervia. L'intervento è stato registrato alle 7 di oggi. A partire da lunedì 8 gennaio, i giudici di pace saranno in sopero per quattro settimane consecutive per contestare la riforma voluta dal ministro Andrea Orlando. Verranno garantiti solo gli atti indifferibili e urgenti, nonché la tenuta di un'udienza a settimana. Dal 1 gennaio, i sacchetti per i prodotti ortofrutticoli sono a pagamento. A qualche giorno dall'entrata in vigore del provvedimento nazionale, i napoletani ancora non lo hanno digerito e il malumore a legge nei supermercati. Sentiamo. Monta la polemica sull'istituzione del pagamento dei sacchettini di plastica nella grande distribuzione per l'acquisto di frutta e verdura. Sui social, su WhatsApp, per strada, i cittadini sono increduli e indispettiti. Il costo, seppure esiguo, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo gli aumenti 2018 previsti dal governo e della società di servizi per luce, acqua, gas, titoli di viaggio, tangenziali e tasse varie. A Napoli la grande distribuzione rischia quindi un gigantesco autogol. In molti preferiscono al supermarket il mercatino, dove frutta e verdura viene servita e imbustata a costo zero e dove in alcuni casi il servizio si arricchisce anche della consegna a domicilio, sempre gratuito, come ci spiega un esercente. Da noi non pagano, anche se è uscita la legge, però credo che è una cosa impossibile. Comunque da noi non si paga niente, né il sacchetto quello là grande che quello là piccolo per mettere la frutta. Secondo le stime, il costo pro capite a fine anno dei sacchettini sarà di circa 12 euro. Una spesa per molti inconcepibile, visto che oltre il costo della bustina di plastica trasparente, alla cassa bisognerà comunque acquistare anche il sacchetto per il trasporto. Se si tratta di sacchetti che non possono essere riciclati, allora capisco la motivazione. Però se sono sacchetti biodegradabili non riesco a capire il motivo, è questa richiesta un po' eccessiva. Per me le buste non si dovrebbero pagare né al mercatino, che non si pagano, né al supermercato. È un ladrocino pagare le buste, ma anche prima, non solamente adesso, perché 10 centesimi una busta che non ti arriva neppure a casa, perché si sfonda prima, onestamente non mi sta proprio bene. Ottava edizione della manifestazione giornata del laureato e del talento guardiese nel mondo, premiato il professore Giuseppe Colangelo e non solo le interviste raccolte a margine della manifestazione. Vediamo. La manifestazione si articola in tre sezioni. La prima sezione sarà dedicata ai diplomati, cioè a coloro che hanno preso il massimo dei voti presso il liceo scientifico di Guardia San Framundi. La seconda sezione ai laureati e l'ultima sezione al talento guardiese nel mondo 2017. E come dicevo precedentemente, quest'anno si è deciso di premiare il professore Giuseppe Colangelo proprio perché anche lui continua a contribuire a quelle che sono le esperienze culturali di Guardia attraverso i suoi studi, le sue iniziative. Comunque anche stando a Trento riesce a dare un notevole contributo qui a Guardia. Saranno premiati questa sera diplomati e laureati. Cerchiamo di trasmettere a questi giovanissimi anche la voglia di restare a Guardia e quindi di puntare su questo territorio. L'indirizzo spesso scolastico obiettivamente non è agevolante rispetto alla permanenza a Guardia di questi giovani perché sono indirizzi che non sono collegati alle possibilità di lavoro che offre il territorio. Devo dire però che negli ultimi tempi c'è anche una certa diversificazione cioè non sono soltanto attività produttive legate all'agricoltura che pure sono cresciute ma sono anche attività produttive collegate ai servizi, collegate al turismo quindi credo che siano delle buone differenziazioni per cui le probabilità oggi che un giovane possa restare in questo territorio sono cresciute rispetto a prima. Ottava edizione è un appuntamento che ormai si consolida e diventa sempre più importante per la comunità di Guardia? Sì, sempre più importante. Infatti in questa ottava edizione abbiamo pensato ad una novità nella manifestazione soprattutto nella parte dei laureati. Si è deciso di premiare coloro che sono stati premiati nelle precedenti edizioni quindi di fare una sorta di punto della situazione sulla loro situazione lavorativa e di ricerca. Infatti ad essere premiati saranno una dottoressa in biomedica che lavora all'Università Southampton d'Inghilterra e poi un dottore in enologia e viticoltura che ci presenterà una nuova etichetta che sarà a breve commerciabile qui sul nostro territorio. Io trovo che questa occasione che ogni anno il Comune di Guardia mette in piedi per i suoi talenti sia un'occasione straordinaria. È bello pensare che un'amministrazione premia i ragazzi che riescono a realizzarsi nella vita dal punto di vista degli studi. È un'occasione molto bella, i ragazzi devono essere contenti perché in questo modo la comunità prende in carico il loro successo e lo condivide con loro. È chiaro che noi della scuola e del liceo scientifico e dei suoi tecniche a gradi che sono presenti qui nel Comune di Guardia, di cui io ho molto piacere di essere la preside, e partecipiamo a questo successo di questi ragazzi perché quando c'è il talento e il talento è appunto la voglia di fare, la voglia di impegnarsi, la voglia di studiare, la voglia di realizzare se stessi, i risultati poi vengono e vengono bene e vengono in maniera anche di grande soddisfazione per se stessi, per la propria famiglia e per la scuola che li ha formati. Quindi essere qui stasera, io ogni anno cerco di ricamare lo spazio all'interno del mio poco tempo per potermi dedicare a questa occasione, per poter essere presente e dire ai ragazzi sono con voi perché la scuola è con voi. Premiati anche diplomati e laureati, cosa si sente di dire ad un giovane laureato? La cosa fondamentale è non fermarsi alla laurea, ma studiare sempre con profonda serietà. Non ho l'ambizione di propormi come esempio, ma il giorno in cui mi ha chiamato il sindaco io ero un po' perplesso, non sul premio, ma perché avevo appena finito di studiare 5 ore per una conferenza che mi era stata affidata dalla più prestigiosa associazione culturale trentina sul 68 a Trento, perché Trento è la città da cui è partito il 68. Il Presidente mi ha chiamato e ha detto caro professore, sarà lei a dover parlarci? Dice, ma come io, un terrone? Sì, sì, proprio lei, a noi interessa lo sguardo altro. Quindi nonostante la preparazione, il bagaglio conseguito fino a ora non all'improvvisazione, ci vuole sempre una continua scoperta? Assolutamente sì, l'improvvisazione non aiuta mai nessuno, bisogna avere spessore e dare questo spessore. Lei in questa sede consegnerà al Comune una poesia, un suo lavoro dal titolo Il Nido, parliamone un po'. Tutto nasce dall'amore per questo nostro territorio, per questa nostra terra. Io ho avuto la fortuna e sfortuna di vivere fuori a guardia e come si dice, quando uno è fuori apprezza quello che lascia. È un po' come il pane quanto manca, allora si ricordano i sapori, eccetera. Ho sempre scribacchiato qualcosa durante la mia lunga esistenza. Ultimamente ho fatto questo piccolo acrostico, diciamo così, e dedicato a guardia. Sono dedicato alla guardia. Riflessioni, testimonianze, spettacolo, narrazioni emozionali e Santa Messa ufficiata dal Vescovo Domimmo Battaglia nella sala dell'ex cinema di Sant'Agata di Goti, la terza giornata del malato oncologico e della prevenzione oncologica. Puntata speciale di Ciac Salute in onda sabato 6 gennaio alle ore 21. A voi una piccola anticipazione, vediamo. Per mia scelta ho fatto proprio questa scelta di umanizzare, anche mettendomi contro le varie classi politiche. Io non ho né colori, né stemmi, né simboli, però amo per esempio questo tipo di politica che attenziona quel letto che brucia, dicevo prima, quel cappellino che scotta. Quindi ho dato molta importanza, talmente è vero che ho scritto ben tre testi sull'umanizzazione delle cure. Ci rimettiamo la faccia, io sono la prima che rimette la faccia in questo progetto, che è un progetto importante, ambizioso, nel quale io ma anche tutto il menaggimento dell'azienda sanitaria locale di Benevento crede molto e stiamo cercando di farci pian piano conoscere, siamo piccoli ma cresceremo insieme con dei progetti veramente, veramente importanti. Proprio ultimamente c'è stato un buon risultato dal punto di vista regionale? Sì, assolutamente sì, credo nei prossimi giorni sarà proprio il presidente De Luca a raccontare nello specifico che cosa accadrà, questo fa onore a quanti hanno combattuto questa battaglia nel corso degli anni, quindi un risultato importante, lo dicevo prima, proprio dal punto di vista della politica sanitaria regionale qui a Sant'Agata dei Cotti. Terza giornata del malato oncologico, anche quest'anno una mattinata ricca di emozioni e di sensazioni forti? Quest'anno la verità è stata ancora più toccante perché siamo riusciti anche a organizzare due spettacoli uno spettacolo che Coraggio Caruzello Napolitano ci hanno donato la compagnia teatrale dell'unità operativa della salute mentale dell'azienda di Benevento a cui ringrazio è un'altra ancora più toccante perché è stata organizzata in maniera perfettamente spontanea proprio dei pazienti e dei loro familiari, dove hanno fatto una relazione sulla forza della vita e ovviamente hanno dimostrato il loro grande coraggio e la loro voglia di vivere. E' un giorno meno amato, tutto l'opone di diplomato e la cancia nera, l'ottima per essere notata ma se ne è cresciuto e ma se ne è tornata chi so pazzo chi so pazzo perché ci fa capire come anche nelle situazioni più difficili anche nelle situazioni più drammatiche la vita è santa speranza Il Golfo di Napoli è il mare preferito dalle tartarughe caretta caretta sentiamo come è stato scoperto Amano notare soprattutto nel Golfo di Napoli le caretta caretta ma anche tra Campania, Calabria e Sicilia esse possono soggiornano volentieri vicino alle montagne sottomarine la cui sommità può arrivare a poche centinaia o decine di metri dalla superficie lo ha scoperto un'equip di etologi dell'Università di Pisa monitorando per otto anni, dal 2008 al 2016 gli spostamenti nel Mediterraneo di otto tartarughe comuni per capirne preferenze e abitudini lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica per ricostruire movimenti sono state applicate piccole trasmittenti sul carapace delle tartarughe e usate tecniche di telemetria satellitare tramite Argos sistema franco-americano di rilevazione a distanza che si avvale di satelliti in orbita polare le tartarughe tutte in fase giovanile avanzata erano state catturate accidentalmente soprattutto da pescatori e riabilitate in centri di recupero in Toscana e Campania dopo il rilascio avvenuto vicino alle rispettive località di cattura hanno raggiunto con movimenti veloci e diretti l'area marina compresa tra la Sicilia, la Sardegna e la costa occidentale della penisola italiana nella quale sono rimaste per l'intero periodo di osservazione la ricerca finanziata dall'Ateneo con i fondi Pra, dalla regione Toscana e dalla stazione zoologica Antonio Dorn di Napoli è condotta in collaborazione con il Centro per la Conservazione delle Tartarughe Marine di Grosseto Siamo alla pagina sportiva allenamento pomeridiano per il Napoli Serie A a Castelvolturno gli azzurri preparano il match contro il Verona di sabato pomeriggio alle 15 al San Paolo per la ventesima giornata di Serie A Invece il Benevento rende noto di aver aperfezionato l'accordo con il club NK Moribor per l'acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jean-Claude Billong il difensore Franco Camerunense ha sottoscritto un contratto pluriennale fino al 30 giugno del 2021 Ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle provisioni del tempo e con il resto dei nostri programmi Grazie dell'attenzione Arrivederci Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento Previsioni per sabato 6 gennaio Festività dell'Epifania con la Befana che porta alla primavera tempesta del 2018 il tempo peggiorerà a partire dalle regioni nord-occidentali poi verso nord-est e Toscana Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it Piogge diffuse al nord-ovest localmente anche di moderata o forte intensità entro la serata nottata Molte nubi sulle regioni nord-orientali con fenomeni più a carattere sparso Spostiamoci ora al centro qui il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e spesso coperto sui settori tirrenici con qualche debole piovasco specie al mattino su Toscana, Umbria e Lazio più sole sul versante adriatico e sulla Sardegna Al sud tempo asciutto e stabile ovunque ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso ma con qualche innocuo addensamento sui settori ionici Neve a 1100-1200 metri sulle Alpi oltre ai 1600 metri sull'Appennino settentrionale venti moderati o localmente forti in genere di Scirocco Le temperature minime saranno comprese tra 1 e 13 gradi su tutte le nostre regioni Per quanto riguarda invece le massime prevediamo fino a 12 gradi al nord fino a 17 gradi al centro e punte di 20 gradi al sud